L'associazione Sport Insieme Mendrisiotto ha un ruolo trascinante verso l'integrazione. Siamo andati a seguire un allenamento di pallacanestro. Molti di loro hanno partecipato anche con successo alle Special Olympics, ma per questi atleti disabili la cosa più importante non è la vittoria. 70 atleti seguiti da una cinquantina di monitori. L'associazione Sport Insieme Mendrisiotto, quella che tre anni fa si chiamava Gruppo Sportivo Invalidi del Mendrisiotto, da oltre 35 anni aiuta persone con difficoltà fisiche o mentali a svolgere un'attività sportiva. Sport come ruolo trascinante verso l'integrazione. Noi ci troviamo una volta alla settimana e l'entusiasmo c'è sempre, tutte le volte le presenze sono sempre molto assidue. Per loro è una possibilità di dimostrare le loro capacità, di dimostrare che anche loro sono degli atleti e che sanno fare dello sport. Ecco, voi eravate qui prima, avete visto quando sono arrivati, proprio questo momento di incontro, di ritrovarsi. È bellissimo. Devo dire che anche per noi monitori, aiuto monitori, che facciamo questa attività, è un momento che aspettiamo sempre perché dà molto. Ieri sera nella palestra delle scuole medie di Stabio era il turno della pallacanestro, ma sono tantissime le offerte sportive e ricreative organizzate dal movimento Sport Insieme Mendrisiotto che raccolgono sempre il grande entusiasmo dei partecipanti. Il nostro gruppo propone delle attività settimanali, dunque il nuoto, il basket, la ginnastica, due sere. Queste sono fisse durante tutto il periodo dell'anno, a parte i periodi di vacanza scolastica. E poi delle attività, diciamo, stagionali, c'è lo sci di fondo, sci alpino, c'è il ciclismo, l'escursionismo, oltre ad attività ricreative anche. La cosa più bella è vedere intanto l'entusiasmo che loro hanno e cercare tante volte di farlo nostro. Cioè noi magari facciamo delle attività nel lavoro, nel nostro tempo libero e magari non arriviamo ad apprezzarle così come le apprezzano loro. E' questo entusiasmo che è la cosa più bella che si prova. Per oggi è tutto, Ticino News torna lunedì, buona domenica a tutti.